Bello studio! Si è trasformato in una discoteca, una discoteca pazzesca per la nostra hit parade dance! Tutti lo aspettano, allora cominciamo subito con l'umero 10 dei dischi più suonanti delle discoteche italiane e allora iniziamo, sono i Madness Melodicus che con singe O! Grazie a tutti! Bene, 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 bene! Allora passiamo di che sapete al numero 9! Ripley a hit con Summer is Magic! Va! Grazie! 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 Oh bene bene, questo era il numero 5 con gli snap Welcome to Tomorrow! Benvenuto e benvenuti a domani! Benvenuti! 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 Grazie! Grazie! Ancora stabili, una conferma degli item, sì, con It's a Rainy Day. Piazza! Piazza! E allora, 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 questo è il numero due, ma è il numero uno, ancora si conferma e straconferma i mitici Mauro Pilato e Max Monti con... Grazie! 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 Grazie!